Parliamo di alternanza scuola-lavoro, potrebbe essere il futuro per i ragazzi e per i giovani? Non deve essere il futuro, abbiamo un 44% di disoccupazione giovanile, nel 2008 era sotto il 20%, abbiamo abbandoni scolastici nei tecnici e professionali, cioè le scuole che dovrebbero mettere più a contatto il mondo lavoro pari al 20-25% e in questo paese da alcuni anni, da 5-6 anni abbiamo circa un milione e mezzo, due milioni di cosiddetti nette, cioè i ragazzi che hanno finito di studiare non hanno trovato lavoro e aspettano ma non si sa bene che cosa. È chiaro che a questi dati dobbiamo far fronte con un cambio di mentalità nel nostro paese, con un cambio del rapporto tra scuola e la realtà che la circonda e quindi anche tra scuola e mondo del lavoro. Non dobbiamo aver paura, non svendiamo la scuola alle aziende, non vogliamo dare laboratori gratuiti agli artigiani o al mondo del turismo, vogliamo solo far dialogare scuola e mondo del lavoro ed è scuola a tutti gli effetti. La scuola è italiano, storia, matematica e geografia, i ragazzi lo sanno benissimo, è la scuola della conoscenza, del sapere, ma è anche, e questa è la novità della riforma della scuola, è anche competenza, è anche saper fare, è anche come dicono i ragazzi, in un gerbo tutto loro, mette le mani in pasta. Questo chiede la scuola, il mondo della scuola, gli insegnanti, i dirigenti scolastici, questo chiedono i ragazzi e questo chiede anche il mondo del lavoro, anche del luogo. Nel Valdarno viene stimato che il 35% delle aziende cercano oggi i lavoratori con alcune qualifiche professionali, con alcune competenze specifiche e non si riescono a trovare. Questo è un controsenso, tanti ragazzi che cercano lavoro e alcune aziende sempre di più che cercano lavoratori ma con alcune qualifiche. È chiaro che deve essere la scuola a cambiare, che queste competenze e queste qualifiche le deve dare.